Ciao a tutti, che bello vedervi. Niente, ci fa concorrenza il bar. Allora, io sono Marco Malvestio, sono qui per presentare in questo palco relativamente affollato, come spesso accade con i libri scritti a più mani, un volume a cui tengo molto, che si chiama appunto Metal Theory, che è uscito per D-editore. Metal Theory è stato curato da Joelle Cime e da Claudio Culesco. Claudio è seduto qua alla mia sinistra, mentre più in là abbiamo Nicola Zolin e Davide Tolfo, che invece sono autori di uno dei contributi, forse sicuramente anche il contributo tutto sommato più brillante di questo volume, dedicato ai Black Sabbath. perché ovviamente all'interno di questo volume c'è una serie di... li potremmo chiamare saggi, ma non sono veramente saggi, sono, diciamo così, pezzi di quella che si potrebbe definire, se vogliamo, theory fiction. No, ma che cosa ci sia in questo libro, andiamo a vederlo tra poco. Ecco, con le parole theory fiction avete già perso 4 o 5 lettori. Io vorrei quindi cominciare con una domanda banale, volendo anche antipatica. Non è di cosa parla questo libro, perché sui volumi collettanei purtroppo non si può fare, ma è come è nato questo libro. Grazie Marco. Ciao a tutti, grazie per essere venuti alla presentazione di questo libro, che è un passatempo. Cioè, è stato letteralmente un passatempo nel momento in cui è nato, durante il lockdown. Io e Joel e Ciman non sapevamo assolutamente che fare, ci stavamo rompendo la minchia in maniera allucinante, abbiamo detto facciamo un'antologia di metal e filosofia, tant'è che poi due anni dopo ne abbiamo fatta un'altra su anime e manga, che uscirà, credo, forse, il prossimo anno. L'idea di base però qual è? Allora, partiamo da un presupposto. Io oggi mi è capitato di ascoltare per la prima volta Masters of Reality The Black Sabbath. Non è vero, non è vero, una battuta. Masters of Reality è l'oggetto di un brevissimo libricino uscito per Bloomsbury, non so quando, scritto da John Derniel, dei The Mountain Goats, gruppo folk alternative qualcosa. E al di là del fatto che The Mountain Goats siano folk alternative, il libro dedicato a Masters of Reality è bellissimo. narra la storia, non vi voglio fare spoiler, di questo ragazzino di 16-17 anni che viene rinchiuso in una clinica psichiatrica per aver tentato il suicidio e del rapporto, è letteralmente il diario di questo ragazzo, che narra al suo terapeuta, che è un infame, è un traditore, il rapporto che ha con Masters of Reality e più in generale con i Black Sabbath. è molto emotivo, perché l'importanza della musica per un adolescente è enorme, non per tutti gli adolescenti, ma per tanti adolescenti, e si tratta di una delle cose più importanti che ci siano. Questo vale soprattutto per chi ascolta generi come il metal e il punk, che sono generi che hanno una genealogia e un rapporto quasi filologico fra fan e genere, macro genere, che richiede di avere una conoscenza enciclopedica. Ci sono ragazzini di 16-17 anni che ascoltano metal e punk che probabilmente il più delle volte ne sanno molto più dei critici musicali blasonati. E questo è un fatto, perché un critico musicale blasonato che magari passa 40 minuti, scusate se sparo zero così su delle banalità, passa magari 40 minuti a studiare roba di conservatorio, a studiare la storia del Free Jets sui testi, non passerebbe mai un'ora e mezza, due, delle proprie serate su Encyclopedia Metallum a cercarsi un gruppo kazako, Black Grind, che ha fatto tre demo. Ma che si tratta di un rapporto feticistico con la merce, perché attenzione, poi parliamo di collezionismo, anche solo di dati, di roba che si scarica ancora su Mediafire, Soulseek, Emule, all'epoca, Torrent, o semplicemente roba che si accumula sui preferiti da YouTube, è un rapporto puramente feticistico, ma che sfocia inevitabilmente nell'enciclopedismo. L'enciclopedismo è una roba sana, nel senso che è la vertigine dell'archivio, dice Marco, perché ti permette, io adesso magari a 16 anni conoscevo dei gruppi che oggi non mi ricordo sinceramente, perché non sono più un frequentatore così assiduo, perché l'età adulta fa male, il passaggio all'età adulta fa male, come dice Berniel nel suo libro su Master of Reality, ma rimane la passione adolescenziale. In un talk sulla letteratura di genere, sulla narrativa di genere, con i curatori di un'antologia uscita per Bonpiani l'anno scorso, ci siamo andati a scontrare sulla questione del genere. loro dicevano il genere è una limitazione, noi non lo rispettiamo, ci fa schifo la narrativa di genere, e io ho risposto, ragazzi, io sono un metallaro, mi piacciono i generi musicali, non conosco ovviamente solo il metal, e sto infognato sul classificare le cose, perché si tratta di un'operazione di tassonomia, bisogna capire se un determinato gruppo è gore, grind o grind, se è post-black o è black, se arriva qualcuno e mi dice gli Alcest sono black metal, io gli do una testata probabilmente, con tutta la stima per gli Alcest, però a me interessa che gli Alcest siano post-black gays, che abbiano rapporti col post-rock, che abbiano rapporti con lo showgays, con i My Bloody Valentine, quella roba mi interessa particolarmente, di conseguenza la necessità di fare, di avere un approccio filosofico al metal è immediata, e mi ricordo molti anni fa, ma parlo di dieci, nove, dieci anni fa, partecipai a questo convegno su Gilles Deleuze, un filosofo francese molto importante, e ci fu questa ragazza che parlò del rapporto fra Deleuze e l'alchimia, quando finì gli dissi, ammazza ma mi ha ricordato tanto Full Metal Alchemist, l'anime, e lei mi ha risposto perché io volevo parlare di Full Metal Alchemist, ci hai visto bene, ma non potevo perché questo è un convegno accademico, e allora io ho detto ma allora siamo stronzi, cioè noi che facciamo attività accademica siamo delle merde, perché ci neghiamo, siamo falsi, falsi, non true, nel rapporto con le cose che ci piacciono e ci giriamo intorno costantemente, da lì è venuta in mente l'idea di fare un seminario dedicato alla musica e filosofia che si è tenuto a Roma 3, al Macro, a Roma, che è il Museo d'Arte Contemporanea, ed è stato replicato in più forme, in più modi nel corso degli anni, che ha portato ad avere un approccio filosofico alla musica in generale, cioè abbiamo parlato di musica house, elettronica, metal, punk, free jazz, improvvisazione di ogni tipo o genere, quasi di ogni genere, crowd rock, field recording, il rapporto tra filosofia e musica è immediato, perché si tratta di spaccare il capello in quattro. Chi l'ha già fatta questa cosa? E poi passo la parola ai ragazzi. L'hanno già fatta Edia Connole e Nicola Masciandaro, che hanno pubblicato ormai un bel po' di anni fa con Mimesis International, Floating Tomb, che è un testo dedicato a black metal e filosofia. Si tratta di un libro rivoluzionario, magari non è bellissimo, non è fondamentale, non è importante, ma è stato rivoluzionario. Ancora prima erano uscite delle raccolte, penso per esempio a Melanchology, che è uscito per Zero Books, che affrontava la tematica della filosofia, del black metal e dell'ecologia addirittura. Quindi i primi esperimenti a confronto al nostro che è al grezzo, erano addirittura più specifici, più raffinati di quello che abbiamo fatto noi. Il problema è che Melanchology ha un contributo originale, veramente, gli altri sono contributi accademici e l'abbroccio di Masciandaro e Connole è religioso. Perché è religioso? Perché Masciandaro parte dall'idea che il rapporto col metal sia emotivo e quindi di tipo mistico, non razionale, non argomentativo. In realtà si tratta di una scusa per contrabbandare la passione di Masciandaro, del filosofo, dell'autore, per i santoni indiani, che è abbastanza sconcertante. È bello, è molto criptico, soprattutto rimane sempre attaccato alla religione. Quello che è interessato a me, Joelle, invece, è di invitare le persone a parlare dal loro punto di vista, evitando anche questo rapporto emotivo, perché il rapporto fra l'ascoltatore e la musica fin troppo spesso viene buttato sul lato dei sentimenti, delle emozioni e non si fa quella che viene chiamata sonic fiction, ossia il mio rapporto con la copertina, il mio rapporto con i testi, il mio rapporto con il gruppo e come si presenta, con la sua dimensione live, sul modo di occupare il palco. Se io penso agli At The Gates, io non penso direttamente alla musica, penso, vabbè, prima di tutto, Slaughter of the Soul e Blinded by Fear, che è il pezzo secondo me più figo in assoluto. Ma poi penso alla presenza di Lindbergh sul palco del cantante, che è una roba allucinante. Quella roba lì è sonic fiction, è tutta l'immaginario, la narrazione che gira attorno a un'esibizione, a un gruppo, a un album, perché sennò le copertine sarebbe inutile metterle, tanto vale mettere il disco dentro una copertina trasparente e venderlo. Non è solo una questione di testi, come dice Darnielle, e non è solo una questione di musica, neanche, non è solo del suono, è tutto il pacchetto. Quello che ci interessava. Per chiudere, è stata fatta la presentazione su Metal Italia del libro, molto rapida, approfondita, bella, però una roba molto basic. Uno dei commenti recitava va bene per i bimbi minchia, puntini puntini, per i veterani no. Bellissimo. Io inizialmente ho riso, poi ci ho riflettuto già nei minuti successivi, l'ho postato, sono stato supportato dalla gente che dice ah guarda sto coglione, che risponde, non capisce in cazzo, la gente, i metallari non pensano. Riflettendoci invece, c'ha ragione lui, perché il veterano ha un rapporto così simbiotico con la musica, quello che ascolta metal da trent'anni e magari si sente solo gli Iron Maiden ormai è metallica, perché il vero true veterano si sente solo gli album classici, neanche Somewhere in Time, si sente Power Slave, basta. Ha un rapporto talmente viscerale con la musica che non ha più bisogno di pensarci, è centrato in simbiosi. Quindi, questa raccolta per i bimbi minchia, per chi non capisce un cazzo di metal, non ne sa niente, è perfetto, perché è un'introduzione che è narrativa, saggistica, filosofica, linguistica, tecnica, antropologica, storica, filologica, c'è tutto. poteva essere fatto meglio, sicuramente poteva essere fatto meglio, però noi abbiamo fatto questo, se lo volete ve lo prendete. Poi facciamo un po' di lezioni marketing, no, allora, una cosa, poi passo, perché, nel senso, hai detto un sacco di cose interessantissime, tra l'altro, quest'ultima questione, io ci voglio tornare dopo, questa del veterano, ecco. Tu hai parlato di generi, allora, io personalmente, vabbè, io faccio l'accademico, quindi, va bene, sono affezionato alla modalità maniacale, no, di collezione, perché è una cosa che fa parte, no, del mio lavoro. Quando leggo critica musicale, sono, io non lavoro, ovviamente, in ambito musicale, sono, spesso frustrato, o dal, dai tecnicismi, no, ovviamente, no, da analisi, che sono, analisi tecniche, musicologhe, musicologiche, eccetera, oppure, nelle analisi degli amatori, e ci sono tanti, adesso inutili, non facciamo i nomi, perché insomma, non sta bene, ma ci sono tanti editori, tanti autori, in Italia, che si occupano di musica, diciamo, di geni musicali particolari, che si occupano di metal, soprattutto, io a volte li leggo, e rimango impressionato, dalla monomania, monomania, di alcune persone, che poi, non riesce, assolutamente, a prendere una forma discorsiva, io ricordo di aver comprato, con grande, insomma, interesse, eccetera, eccetera, un bel libro, non me l'hanno regalato, l'ho pagato io, 35 euro, quindi, insomma, posso dire, posso anche lamentarmene, se voglio, ho diritto di farlo, perché l'ho pagato, un bel libro, sul Doom, che era, 400 pagine, di, nomi di band, dischi di queste band, dove hanno suonato, chi suona i compagni, cioè, un elenco continuo, eccetera, quello che fate voi, qui, è, e siccome, è molto più interessante, molto più fecondo, anche perché è molto più libero, no? Sempre a proposito di generi, Lucio Fulci, si definiva il terrorista dei generi, è una cosa che avete fatto un po' anche voi, ovviamente, in termini di generi, qua dentro c'è il Black, c'è il Doom, c'è il Def, insomma, coprite un po' lo spettro, però, ciascun autore lo fa in maniera, eccezionalmente diversa, senza pretese, no? Di andare a toccare tutti gli argomenti, e con una sostanziale libertà, una libertà che di fatto arriva, anche al dato paradossale, di avere un contributo sui Black Sabbath, questo è l'aggancio per far parlare anche loro, che sostanzialmente non parla dei Black Sabbath, però sostanzialmente sì. Allora, parlo un secondo del nostro contributo, penso che sia uno dei contributi che probabilmente verrà o viene, già adesso, odiato di più, dei famosi veterani, ed è perché appunto, intanto non è un saggio, è una theory fiction sull'origine inumana dei Black Sabbath. Audio, audio. Sì? Sull'origine inumana dei Black Sabbath. E quindi appunto, io penso che uno dei primi effetti quando si legge questo testo è quello di essere un po' spiazzati, perché è molto caotico, inizialmente, bisogna un po' entrare nel testo per capire come è stato strutturato, ma diciamo che, poi non so se Nicola vuole aggiungere una diversa versione dell'origine di questo testo, ma per noi era nato appunto a partire da tutto quel mondo che si costruisce attorno alle leggende dei gruppi. E abbiamo scelto i Black Sabbath, perché i Black Sabbath sono proprio ricchi di questo tipo di immaginario, quindi ci sono appunto leggende su castelli infestati mentre loro registravano, oppure appunto varie cose legate a riti satanici, alle invocazioni di vari demoni. E di solito, quando si parla del metal, c'è sempre questa cosa per cui si dice che nei vari programmi su Mediaset c'è sempre questo collegamento tra metal e satanismo, e poi ci sono i metallari che dicono no, assolutamente no, noi abbiamo fatto tipo il contrario, abbiamo detto ma, no no, i Black Sabbath proprio vengono da un'entità inumana e al massimo sono proprio effetti inumani, cioè sono proprio creature, diciamo che loro quanto umani sono solo dei semplici parassiti, diciamo, e ovviamente ci siamo divertiti molto perché gran parte delle cose che noi utilizziamo le abbiamo inventate, nel senso che abbiamo preso magari anche storie che abbiamo trovato, ma per noi era più un esercizio per vedere in che modo era possibile costruire un mondo attorno ad un gruppo che in realtà, come diceva Claudio, è quello che il fan medio, il fan però, soprattutto dei micro generi, fa quando di per sé ascolta questi gruppi, cioè non si tratta molto spesso anche con i gruppi Black, non è molto un semplice ascolto passivo, ma si va proprio a trovare, che ne so, la prima cassetta, il diario di quello che aveva scritto Dead dei Mayhem prima di sparare, quindi c'è una sorta di creazione di un mondo, quello che ovviamente non potevo non usare questo concetto, ma world building, cioè una creazione di mondo attorno a queste band. Qui noi siamo partiti da quest'idea, cioè dall'idea di creare una sorta di mondo che già un po' esisteva a partire da tutte le leggende che sono state scritte e dette attorno ai Black Sabbath e appunto darla forma in una theory fiction. Ovvio che al critico musicale, medio, comunque al tipo di persona molto, cioè è rimasta proprio un tipo di lettura del metal come quasi di da scalica, delle tracce di un CD, questa cosa dà fastidio, perché di fatto è un modo di fare, di scrivere in modo narrativo su un gruppo, creare un mondo immaginario e quindi se una persona magari va lì e dice no, ma questa leggenda è falsa, già parte quel piede sbagliato. Quindi la nostra idea era stata proprio questa di creare un mondo attorno a quello che in parte già esisteva, ma continuare ad ampliarlo, proprio per vedere come questi gruppi qui sono effettivamente di portali, cioè possono essere il punto di partenza per qualcosa che neanche il gruppo prevede e quindi da lì ci siamo espansi, abbiamo visto come il suono dei Black Sabbath arrivava fino alle chitarre dei Sun, quindi una sorta di, cioè il soggetto diventava proprio il suono e con, nel senso, evidenziando il lato inumano per noi era importante evidenziare come chi se ne frega della biografia di Ozzy Osbourne, quello che ci interessa è quel suono, quel tipo di timbro e il motivo per cui da lì è nato quel genere lì, quindi al di là delle cose biografiche di Daskalik, dei gruppi stessi. Se vuoi aggiungere... Grazie Davide. Sì, mi sento di aggiungere una cosa in riferimento sia a quello che ha detto Davide sia a quello che ha detto prima Claudio introducendo il testo, ovvero proprio questo processo possiamo dire che è stato fatto con Metal Theory, ovvero di ricercare un approccio non accademico, di partire diciamo da dal basso anche volendo per ricostruire un qualcosa che sia una sorta di critica che appunto è proprio quello che vuole fare la Sonic Fiction che diceva anche penso fosse il primo a teorizzare la Sonic Fiction Codway Shun con More Brilliant Than The Sun penso che con questo testo sia stata fatta una cosa molto 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 simile a quello che era la sua teoria diciamo poi quello che abbiamo fatto io e Davide è appunto usare diciamo i Black Sabbath semplicemente come un pretesto per parlare di tutt'altro diciamo utilizzando come elemento comune questa sorta di appunto entità inumana come ha detto Davide questa sorta di cosa che c'è ma non si sa da quanto non si sa dov'è di preciso ma che pian piano intacca vari settori varie cose ad esempio nella parte scritta da me Davide nel contributo scritto da me Davide c'è c'è una parte che riguarda un ragazzo ossessionato dalla colonna sonora di Final Fantasy 7 ad esempio perché nella colonna sonora di Final Fantasy 7 c'è un pezzo forse il più famoso pezzo della saga di Final Fantasy che si chiama One Winged Angel ed è un pezzo in cui è presente il Diabolus in Musica Diabolus in Musica che è presente anche in Black Sabbath che è presente anche in alcuni pezzi di Jimi Hendrix che è presente in una miriade di altri pezzi nella storia della musica e quindi io e Davide abbiamo utilizzato anche questi piccoli diciamo escamotage per gli esperienti esattamente per creare appunto questa sorta di lore dei Black Sabbath questa lore inumana cercando appunto di creare una sorta di puzzle che il che il lettore la lettrice può può mettere assieme cercando tra le note cercando tra i vari riferimenti e avendo un po' di curiosità anche semplicemente è bello questo che dite mi fa in realtà cioè mi fa pensare perché mi fa pensare alla fan fiction è stata cioè Henry Jenkins che è uno che l'ha studiato tanto ha detto la fan fiction nasce da un misto di fascinazione fascino insomma diciamo così e frustrazione tra l'altro io ho scoperto da poco che esistono i fan fiction anche sui cantanti famosi c'è una fan fiction su Taylor Swift quindi in realtà abbiamo scoperto a che genere appartiene il vostro testo sui One Direction poi i Black Sabbath sono i One Direction del metal comunque no la questione diciamo così questo rapporto come dire tra un oggetto d'amore un oggetto di fascino e in una certa maniera la sua irraggiungibilità io volevo tornare sul commento che hai ricevuto perché di fatto secondo me è un commento molto interessante che poi è un commento insomma io ho ascoltato molto metal da ragazzino meno brutale di quello che ascolto oggi la mia gateway band sono stati Nightwish quindi insomma va bene e ho ricominciato poi a un certo punto ho smesso e poi ho ricominciato tutto sommato da non tanti forse un paio d'anni e ho ricominciato con appunto avendo io poi il background di una persona che studia per lavoro con la foga dello studio quindi leggendo libri informati facendo le liste tutto qua perché insomma non riesco a godermi le cose se non se non se non in questo modo ma ovviamente rispetto al veterano di cui parli tu io mi sento un poser no? cioè non avrei usato la parola bimbo minchia che è un po' retro ma insomma un poser sì probabilmente no? l'ultimo è arrivato che cerca di capirne cerca di finge di saperne no? allo stesso tempo però io probabilmente ne so effettivamente di più in termini di conoscenza conoscenza no? cioè di quella che uno chiama normalmente sapere sapere verbale sapere diciamo per iscritto manca però ovviamente quella dimensione di esperienza che non è soltanto le cose di cui uno ha fatto esperienza ma è anche evidentemente il fatto che il metal forse più di ogni altro genere musicale è un'esperienza quindi ecco a me ecco sì volevo chiedervi di elaborare un po' no? ulteriormente questa polarità tra tra veterani i bimbi minchia e quello spera anche loro in che squadra sentono di militare Davide è un veterano si vede allora io partirei da qualcosa di proprio terra terra da un esempio pratico allora sarà stato tre quattro anni fa apre questa web zin droga già dal nome diretta da Riccardo Papacci che è un esperto di musica elettronica Stefano Di Trapani che è un critico musicale esperto un po' di tutto dal gore grind noise fino alla musica italiana degli anni 60 e tra i primi esperimenti fatti da sta web zin ci sta a invitare Metal Carter del Truce Clan a recensire un disco degli Slayer che mi pare fosse proprio Rain in Blood allora qual è il problema nelle recensioni musicali della musica pop o underground mettiamoli insieme perché alla fine i Napalmdet sono pop diciamo che si può costruire una dimensione pop in cui su Blow Up uno che non è proprio specificatamente un metallaro recensisce l'ultimo dei Napalmdet e poi magari The Mountain Goats i Radiohead fa la retrospettiva su un po' tutto purtroppo la critica musicale oggi è anche questo fare un po' tutto allora che fa analizza il disco alla luce di quello che è venuto prima traccia per traccia in base alle precissitudini dei membri dei componenti della band e in base ad altri quindi una prospettiva anche relazionale in cui dici magari l'ultimo dei Radiohead è ispirato al folk di X questo è un modo standard di fare una recensione che è adatto ai tempi editoriali che ci sono oggi che ti scegli un disco da una lista che viene proposta dalla redazione il disco ti viene spedito inviato in versione con un codice che ti scarichi da Bandcamp e fai la tua recensione in una settimana cinque giorni al massimo due settimane dieci giorni quello che esce è un prodotto pre-confezionato secondo degli stilemi e questi stilemi si assomigliano tutti nel senso che se si va a leggere una recensione su Rumore Blow Up Honda Rock e Metal Italia oddio forse Metal Italia no però più o meno si assomigliano tutte cosa ha fatto Metal Carter nel recensione Rain in Blood degli Slayer la sua recensione è letteralmente figo sono una cartella due in cui lui essenzialmente dice figo è il mio disco preferito non dice nulla assolutamente nulla a proposito ben diverso sarebbe per esempio partecipato nell'ultimo anno nel corso dell'ultimo anno la stesura dell'enciclopedia della musica Treccani c'erano nomi grossi a far occuparsi dei vari gruppi dei generi e un po' mi sono interessato sono andato a vedere che cosa avevano prodotto questi nomi grossi che conoscevo magari anche solo di nome e producevano delle analisi grosse spesse proprio thick belle ciccione dalla parte musicale più tecnica fino alla parte storica lunghissime retrospettive quello che manca però è questa passione sincera che a me dà il carter nel dire a me questo disco mi piace tantissimo te lo consiglio sentilo questi sono due estremi in cui in mezzo c'è la recensione media dell'ascoltatore del recensore di rivista che fanno schifo secondo me fanno schifo tutti e tre perché? perché sono banalizzanti non dicono nulla e si riducono a un consiglio per gli acquisti il problema della critica musicale italiana è che si limita a un consiglio per gli acquisti e quando non è un consiglio per gli acquisti è un paper accademico di 10, 15, 20, 30 mila battute sepo di riferimenti bibliografici che potrebbero essere evitati perché che c'entra con la distinzione fra new bo bimbo minchia e veterano c'entra nel fatto che il veterano dappi scontato che quello che pensa lui sia corretto ma l'accademico che potrebbe essere pure un veterano chi lo sa fa la stessa cosa e in mezzo c'è il bimbo minchia che su blow up fa la recensione della bandette la settimana dopo di Taylor Swift cioè quello secondo me è il vero bimbo minchia nel senso che manca proprio la passione fracica terribile cancrenosa per il genere che magari collegata con una conoscenza storiografica anche vaga musicale tecnica che da sostanza poi allo scritto io ho sempre odiato la distinzione bimbo minchia new bo poser e true veterano e questa roba qui l'ho sempre odiata perché ovviamente quando uno si approccia al genere nel metal c'è il famoso tema dell'elitismo ossia il fatto che chi è appena arrivato deve soffrire cioè il nonnismo questo è molto brutto parliamone d'altra parte però questa sofferenza terrificante che spetta al 13 14 15 è appropriata nel momento in cui tu chiedi a un trentenne qual è il tuo gruppo metal preferito e lui ti risponde i Death Heaven se io ti ho chiesto qual è il tuo gruppo black metal preferito tu non mi puoi rispondere i Death Heaven cioè dal mio punto di vista perché è una sofferenza ed è una sofferenza quasi inspiegabile poi i Death Heaven a me piacciono tantissimo li adoro li sento da quando non è proprio neanche classica frase da me dall'aro li sento da quando non li conosceva nessuno da Road to Judas ma penso che se tu hai questa passione così forte per un genere ci sono queste cose che ti fanno soffrire a me piace tantissimo il noise e detesto il fatto che il noise rock e il large noise vengano buttati nello stesso genere è proprio una sofferenza viscerale perché sono di quelli che sistema i quadri quando li vede storti anche a casa degli altri passa e li deve rimettere tritti a me questa cosa mi fa male perché non sono la stessa cosa e secondo me il veterano è contraddistinto se proprio vogliamo dare una definizione di veterano da questa puntigliosità da questo amore viscerale per il genere che ti porta a classificare le cose e a vederle ad un altro occhio e secondo me il veterano è anche contraddistinto dal fatto che il mio gruppo Gateway sono stati Sleepknot e Linkin Park e System of a Down classico un classico però questi gruppi se li senti quando hai 13-14 anni nel 2000 e qualcosa automaticamente sei un bimminchia sei un nubo che succede però poi dopo che quando ce ne hai 30, 35, 40 te li puoi risentire è come il biglietto del monopoli per uscire dei prigioni gratuitamente nel senso che poi se tu sei libero e tu conosci tutta quanta la discografia dei gruppi death metal brasiliani della scena underground a quel punto tu puoi sentire steal this album tranquillamente nessuno gli dice nulla ma questo è un diritto che tu acquisisci perché hai una conoscenza così precisa così esatta così puntuale che a volte non è neanche necessario metterla a parole come fa l'accademico d'altra parte ripeto il grande male della critica musicale accademica è di non aver trovato una sintesi tra tutte queste cose e a noi ci è arrivata una benedizione a un certo punto ossia Mark Fisher Mark Fisher è stato una benedizione in Inghilterra e per me questo è il suo più grande merito al dirà di realismo capitalista ma a un certo punto ci è arrivata la critica musicale di Mark Fisher e quella è la chiave di ciò che si potrebbe fare oggi ma ci si ostina a non fare per i tempi editoriali il formato della rivista e il fatto che chi scrive su True Metal Metal Italia Web Zimbari non ha nessun tipo di formazione spesso e quindi magari cioè da un lato un po' più di formazione dall'altro un po' più di passione mi aggancio a alcune di queste cose che hai detto beh insomma prima mi è tornato in mente un aneddoto sulla questione del veterano io l'estate scorsa ero al Frantic Fest a Francavilla al mare insomma una cosa sì no molto bello poi probabile insomma molto 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 bello si esibivano i Rotting Christ cioè nel senso così io arrivo mi metto in coda per entrare sotto il soleone mi tolgo le cuffie la prima cosa che sento dire ah un veterano davanti a me proprio con i galloni da maresciallo di Francia eccetera eccetera comunque per me il black metal è finito con i Venom cioè la prima cosa dice che cazzo sei venuto a fare è nato morto praticamente a gamba tesa vabbè comunque però i Rotting Christ se li hai sentiti ma non si può dire no comunque ci sono due o tre cose che hai detto che in realtà a me interessano molto alla luce diciamo così del rapporto che c'è tra il metal e la nostalgia tu hai parlato più volte ovviamente dell'età adolescenziale anche preadolescenziale e io cioè io mi riconosco in quello che dici cioè quando io ero ragazzino quel rapporto lì con la musica io non l'ho più riavuto non solo col metal ma insomma anche se poi ne ho ascoltata tanta me ne è piaciuta tanta ma è una cosa che io non non ho più provato cioè quel senso di centralità no che che aveva la musica come esperienza ora ora il fatto è anche che noi su questo palco adesso non facciamo l'età corrette però andiamo tutti diciamo così tra i 30 e i 40 ecco non si chiede mai quanti anni ha un calvo però diciamo tra i 30 e i 40 siamo ormai purtroppo fa strano dirlo uomini adulti eppure siamo anche uomini adulti che sentono come l'assassino nei romanzi gialli il bisogno di tornare sulle proprie tracce sul proprio luogo del delitto e questo secondo me è perché diciamo così nel metal come genere che è un genere sommamente adolescenziale perché è un genere di rabbia lo dice Darniella anche nel libro una musica su cui essere arrabbiati a proposito di Master of Reality è un genere molto adolescenziale ma che proprio per questo piace così tanto anche in realtà a persone che non sono più adolescenti e che è quello che rende anche a volte un po' strana un po' malinconica la figura del veterano del metallo perché sono persone cristallizzate in un fandom in un stile di vita eccetera però quella è proprio la sensazione almeno per quello che mi riguarda che io spesso cerco nell'ascoltare la musica quando uno parla del black metal che cosa c'è l'aspirazione massima è proprio quella di trovarsi in questi luoghi fuori dal tempo fuori dallo spazio completamente finti perché poi ovviamente tutto il primo black metal è fatto in Norvegia e è ambientato tutte le liriche eccetera sono ambientati in Transilvania ma una Transilvania che non esiste sembra di guardare i film di Mario Bava con la nebbia finta permettimi sembra di guardare lo stand di Aboka al Salone Internazionale del libro quello con gli alberi finti è tutto una finzione una cosa completamente artefatta dove però ci si vuole dirigere ecco questo non so scusate pensiero forse un po' peregrino ma adesso tocca a loro vado io Nicolo sì no guarda io in realtà mi ricollego quello che ha appena detto Marco perché io stavo pensando al fatto che il veterano ha una funzione performativa e quasi da martire nel senso che cioè la sua presenza è quella che testimonia di essere stato in un momento e in un luogo cioè io gli riconosci anche i concerti soprattutto ai concerti metal perché questa è una cosa molto legata al genere perché loro sono quelli che hanno già visto quella band quando aveva la prima formazione e vengono a rivederla solo per rimarcare il fatto che loro come martiri erano presenti durante quell'evento sacro e in più è legata proprio alle date cioè loro c'erano quando i Mayhem hanno pubblicato quell'album tutto il resto come dire ah ma tu sì vabbè sei adolescente adesso anche la fruizione stessa sei adolescente ascolti su Spotify Mayhem pensa che io dovevo comprarlo al cd ed è tutto un atto comunque performativo cioè l'essere presente in un luogo aver fatto determinate azioni e la loro proprio corporeità nei concerti servo per rimarcare che c'è una differenza fra le nuove fruizioni e c'è una sorta di proprio aspetto molto corporeo e tribale nella musica stessa del metal cioè legato proprio a date a determinati modi di presentare quindi la formazione quell'album e io però vedo rispetto a questo tipo di atteggiamento anche un altro atteggiamento che vabbè uno ovviamente potrebbe definire da bimbo minchia ma che è quello legato a tutti quella fiction che nasce su Reddit ad esempio cioè tutta quella fiction che nasce magari su ore e ore di ricerche su doom scrolling su YouTube e questa è una cosa anche generazionale nel senso che magari che ne so appunto restando con l'esempio di Mayhem una ragazzina di 13 anni scopre Mayhem grazie al film che è stato fatto poi si rende conto che il film non è una vera rappresentazione di Mayhem va a scovare lo youtuber che parla della storia di Mayhem trova su Reddit tutta una storia su Mayhem e inizia cioè il suo percorso di avvicinamento a Mayhem è legato più a quello che si dice di Mayhem che non alla presenza stessa del gruppo e secondo me questi due approcci non per forza devono essere opposti ma anzi quando trovi il modo per unirli e secondo me Fisher faceva in parte questo cioè lui era presente ma allo stesso tempo era interessato a quello che si scriveva e si produceva attorno a quei gruppi allora lì nasce secondo me la parte più interessante e produttiva che riesce ad andare oltre la semplice recensione appunto su la traccia 2 è un po' così la traccia 3 cioè c'è c'è effettivamente la parte produttiva e io credo che in questo ed è il motivo per cui la theory legata al metal è nata attorno proprio al black metal è perché secondo me tra i vari generi se restiamo nell'ambito del metal quindi non entriamo nell'elettronica o altri ambiti il black metal secondo me è il genere che più di tutti riesce a unire queste due cose fin dalle origini perché come diceva Marco appunto parte con degli immaginari ben specifici ma anche proprio con un'estetica ben specifica e uno penso anche gli immortal gli immortal hanno costruito una carriera su un world building perché tutta la carriera degli immortal può creare questo mondo di ghiaccio che poi gli ascoltatori riconoscono come il mondo degli immortal quindi è interessante perché proprio il genere più estremo che più richiama i veterani in realtà è il primo genere che ha bisogno anche di questo lato creativo di essere espanso tanto che a me piace molto anche proprio come feticcio mio vedere come questo genere che sembra così radicato ad una sorta di staticità in realtà continua a produrre cose assolutamente imprevedibili tipo penso a queste nuove frange tipo il cascadian black metal che appunto sono generi che prendono e usano l'immaginario della foresta tipica del primo black metal del nord d'Europa e lo spostano nelle foreste americane quindi riprendono magari i miti dei nativi americani come miti contro lo sviluppo contemporaneo ed è assurdo perché il metal di per sé il black metal di per sé è reazionario ed è innegabile questo fatto ma lì lo fanno mantenendo questa vena quindi i true riconoscono questi gruppi come gruppi effettivamente parte del black metal e allo stesso tempo riescono a scardinare quello che sembrava un immaginario bloccato su determinati canoni a me viene da dire una cosa ricollegandomi al discorso su Mark Fisher e alla sua importanza proprio riferita a questo approccio che si può avere a un determinato genere musicale perché chiaramente è applicabile a molti altri generi l'approccio di Fisher e mi viene proprio in mente che un po' quello che ci ha spinto parlo per me ma penso di parlare anche forse per Davide quello che ci ha spinto a fare questo contributo in questa maniera è anche la curiosità di vedere cosa c'è oltre a quel genere a quella musica lì trovare dei collegamenti essere ossessionati dai collegamenti che ci sono ad esempio tra quell'album perché in quell'album appare nella copertina nell'artwork appare quel personaggio lì ma ne viene parlato anche da un'altra parte ma allora forse c'è un collegamento da un altro testo e così via e adesso piccolo aneddoto molti anni fa avevo contattato Davide per un progetto universitario mio dovevo fare delle tracce di musica elettronica sperimentale mi serviva un batterista per registrare delle parti abbastanza pestate diciamo e ci siamo trovati in questa sala prove nell'Interland Veneto e passavamo le serate non a registrare la batteria ma a discutere di queste cose qui c'è a trovare collegamenti completamente fuori di testa tra Nick Land che però ha scritto una cosa relativa a quest'altra cosa parlare di fantasy black metal e così via e quindi c'è penso sia una cosa un po' fondamentale questo approccio di Fisher nel trovare tra l'altro penso che forse il testo che un po' più ci ha ispirati in questa cosa qui è stata la collezione di scritti della CCRU come l'hanno voluta costruire loro appunto questa raccolta di scritti che vanno da testi che riguardano antropologia completamente inventata a testi che riguardano alieni a filosofia di qualsiasi tipo cioè era un approccio che a noi piaceva molto e quindi abbiamo voluto dirigerci verso quello perché pensavamo fosse la cosa più adatta a questo genere ascoltate visto che stiamo per toccare l'ora io vorrei dare un'altra possibilità a Claudio di vendere questo libro no di no allora perché ovviamente abbiamo parlato tanto diciamo delle questioni fondamentali no però proprio perché questo è un libro così difficile di scrivere forse tu che sei il curatore vuoi fare una piccola diciamo overview dei suoi contenuti anche a beneficio dei lettori potenziale sì farei una roba rapidissima ti posso chiedere la copia perché a distanza di tutti questi anni allora il libro ha un ordine che è istintivo quindi non è che c'è stata grande riflessione su in che ordine devono andare i contributi la premessa doverosa è che nessuno ha parlato di trash metal nessuno ha parlato di trash metal e questa cosa è scandalosa però nessuno ha parlato di trash metal un motivo ci sarà infatti mi è venuto in mente quando tu Marco dicevi del tizio in coda che dice per me il black metal è morto con i venom subito ho pensato ma questi sono i fan degli aura noir tipici di quel trash black per cui il trash black è solo quello e forse il trash metal è quello più difficile da pensare come genere perché è veramente più viscerale e in effetti nessuno l'ha proposto i miei generi preferiti sono il black metal lo stoner e il doom però mi piacciono molto anche le heavy epic perciò io mi sono occupato di questo settore qua heavy epic metal heavy metal power metal perché sapevo che nessuno l'avrebbe fatto perché sono a parte manilla road si ritto un gol questi gruppi storici qua sono gruppi sono proprio un genere da bimbi minchia il power metal privo di ogni possibile retenzione a parte blind guardian ma quello è trash metal mi dispiace e di conseguenza sicuramente i generi toccati sono l'epic metal e il power il death metal molto in breve il black metal in più punti il post black il new metal con uno sguardo diciamo di male theory di femminismo maschile alla Gasparrini che è molto interessante sul new metal che secondo me restituisce un'immagine anche molto forte e molto vissuta a livello di 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 da parte del fan medio del new metal all'epoca drone e post metal neurosis sun sleep dop smoker e il collegamento fra le due cose e i black sabbat e tutto il comparto della musica lunga diciamo così il gore grind e basta non c'è tutto tutto però è tutto molto ben 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 argomentato ben presentato io direi che non c'è un pezzo che non dovrebbe esserci ma c'è un'ennesima dimostrazione del fatto che la dialettica fra bimbo minchi e veterano può essere trascesa in due modi cioè oltre al veterano ci sono due modalità di rapportarsi al metal che secondo me sono rispecchiate dal modo in cui gli autori si sono rapportati alla scrittura alla stesura del testo il primo la dialettica fra il vecchio e il nuovo che è tipico del veterano il veterano però è bloccato in uno di Rebegel lo porto su Egel il veterano è bloccato in una cattiva infinità nel senso che non gli va bene niente di quello che viene dopo cerca costantemente la nuova ripetizione del vecchio nel senso che per esempio il fan tipico del trash metal tra i 35 e i 45 ha questa tendenza un po' come quello del black e del death di andarsi a cercare i gruppi del 2024 che suonano come gruppi dell'86 dell'89 dell'84 e c'è questa ripetizione costante che per carità ha fatto proliferare i blog e il download illegale quindi sia benedetta ma tende a bloccarsi a rimanere bloccato a rimanere adolescenti invece ed è questo forse uno dei punti del metal io lo sposterei dal fatto che il metallaro è uno che è rimasto adolescente e se veste come un adolescente perché è disadattato no, la cosa che mantiene più di tutto dell'adolescente è la curiosità questa mania di conoscere e classificare è curiosità è passione la dialettica fra il vecchio e il nuovo viene rotta nel momento in cui uno a un certo punto comincia a fare degli ascolti diversi ascoltare cose nuove e a ricollegarle al vecchio cioè se uno sentisse gli alzest e dicesse ah i mail mi facevano schifo sono molto più belli gli alzest sarebbe un atteggiamento un ragionamento preoccupante di conseguenza è preoccupante anche se meno evidente uno che sente gli alzest e dice gli alzest fanno schifo erano belli mail se gli alzest si ascoltano 12 miliardi di persone un motivo ci sarà dagli una chance poi a me pure fanno schifo tante volte le cose più recenti però bisogna riconoscere dei meriti ed è la curiosità che ti spinge ad andare su Spotify Tidal su Youtube a mettere riproduzione casuale quello che ti capita è dici ma questa roba è fica ed è questa spinta l'altro modo per superare questa dialettica fra il vecchio e il nuovo è una roba bestiale che non raggiungerà nessuno di noi spero voi tutti ce la facciate che è andare sul trascendente anzi al nodo fra il trascendente ciò che è oltre il terreno e la materia è il trascendentale ossia ciò che viene prima ciò che è a priori nel metal nella musica in generale trascendente significa andare oltre quello che c'è ciò che si può sentire ciò che è stato prodotto ma trascendentale significa andare alle radici di qualcosa e questa è una roba che pochissimi artisti hanno fatto ed è già una forma di fiction è già una forma di teoria ed è già una forma di filosofia speculativa quindi di speculazione e di narrazione gli esempi che mi vengono subito sono Rish Chattnam e Glenn Branca che interrogati su come hanno fatto a ricavare l'essenzialismo ovviamente sono due musicisti contemporanei importantissimi studiati in sede accademica conservatorio storiografia arte contemporanea hanno cambiato tutto per quanto riguarda l'approccio al suono potrebbero rispondere dicendo il mio maestro un po' come si fa con il crowd rock e Stokhausen uno dice il crowd rock il rapporto immediato è con Stokhausen no quelli comunque volevano fare una roba di rock anglosassone nella Germania dell'est l'hanno fatta grazie alle loro conoscenze accademiche e lo studio con Carleisen Stokhausen e sono riusciti a ottenere questa roba ma Chattnam e Branca non rispondono è perché noi siamo studiosi siamo intellettuali rispondono noi siamo andati ad ascoltare Black Sabbath ci è capitato ad ascoltare Black Sabbath unita all'idea della no wave di togliere 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 lasciare il minimalismo abbiamo capito che c'è qualcosa che è un'essenza di un brano di un'opera di una discografia e questa essenza il genere di Chattnam e Branca di solito viene associato con con l'essenzialismo questa essenza è il riff quello specifico riff tant'è che Chattnam a un certo punto cita Dope Smoker degli Sleep che è un album arduo da ascoltare anche per chi è abituato ad ascoltare musica estrema un album bellissimo uno dei miei preferiti dice io per comporre la mia opera per 100 chitarre 50 chitarre 200 chitarre 500 chitarre la replicata in più occasioni con numeri diversi mi sono ispirato a Dope Smoker degli Sleep perché volevo ottenere quel suono granitico è il lavoro che ha fatto Branca che sembra fuori dal cosmo no wave musica contemporanea avanguardia trans avanguardia non è nient'altro che la riproposizione dei riff di Black Sabbath presi nella loro essenza è questa l'opera che tutti noi dovremmo aspirare a fare anche quando scriviamo anche quando facciamo teoria cercare di andare alla radice e spero che i contributi di questo libro ci siano andati spesso ci sono arrivati secondo me allora io ringrazio il nuovo prendiamo anche domande al pubblico no volete fare le domande se le avete alzate la mano alzate la mano non abbiamo domande potete farle però eccolo è arrivata abbiamo anche la contestazione la mia domanda che dice io ho la cupene buonasera non mi definisco un apprezzatore come dire appassionato di metal ma l'ho ascoltato no la mia domanda è storica addirittura generazionale premetto che sono arrivato nella seconda parte della presentazione magari l'avete già detto però la mia curiosità è generazionale e ve la faccio un po' provocatoria è definibile un genere che le nuove generazioni finiranno per non ascoltare più perché avete parlato di tredicenni che si approcciano no che quindi esistono ma sono sempre di meno perché la mia percezione da esterno è che sia un genere che via via cioè nel senso la massa degli ascoltatori è sempre più adulta e va in buto diciamo si va affievolendo avete anche voi questa percezione ne avete già parlato nel caso però sono molto curioso di questo io ti rispondo in 20 secondi proprio ma che 5 la gente si sente i The Refused nell'arcore punk e l'arcore è tornato attraverso gruppi nuovi che hanno riportato millencoli in The Refused la rinascita dell'emo cioè nel senso la seconda generazione terza anzi di emo quello che era tipico delle sing queen dei bimbi minchia come li chiamavamo a Roma ha portato nuovi ascoltatori al metal e contemporaneamente ha fatto riscoprire i classici dello scrimo di conseguenza questi fenomeni generazionali ricicciano sempre costantemente il punk esiste praticamente da prima del metal dell'heavy metal praticamente quasi in contemporanea ma in realtà da prima ed è uno dei geni più ascoltati attualmente dai giovani adolescenti io aggiungo un brevissimo aneddoto forse Davide se lo ricorda quando siamo andati un annetto fa e qualcosa siamo andati a sentire i Mayhem a Milano indipendentemente non siamo andati insieme ma ci siamo trovati lì e io mi sono e c'erano ovviamente i primi dischi i Mayhem hanno 30 anni ovviamente hanno la mia età un paio di anni meno di me ma c'erano ragazzini e ragazzine 13-14 anni con i genitori quindi questo da un lato vuol dire che anche i Mayhem sono diventati dead rock però dall'altro vuol dire che si vedono anche ragazzi i giovani come si dice ai concerti va bene basta su queste note terribili impietuose niente noi vi salutiamo grazie per essere rimasti con noi fino alla fine il libro di cui abbiamo parlato di nuovo è Metal Theory non abbiamo detto il sottotitolo che è Esegesi del vero metallo lo hanno curato Claudio Colesco che è qui con noi e Joelle Cima che invece non c'è ci hanno scritto tra gli altri Davide Tolfo e Nicola Zolin il libro è pubblicato da Dieditore e lo trovate lì sotto quella colonna oppure su allo stand dell'editore grazie ancora e buona serata